Seguiamo la logica delle 3T, testare, tracciare, trattare. Queste le parole del direttore generale dell'ASL di Lanciano Vastochieti, Thomas Schell. A fronte di un rischio di contagio ridotto, ha richiarato Schell, diventa fondamentale scovare nuovi casi di positività e isolarli, con particolare attenzione a RSA e case di riposo. Sulle prime 2T però, testare e tracciare, sembra che ci siano notevoli ritardi. Mentre normalmente per processare un tampone occorrono circa 48 ore, i 5 Stelle riportano segnalazioni di cittadini che o non riescono a fare il test o non riescono ad averne risultati dopo diversi giorni. Il 28 aprile il direttore Schell manda di fatto a tutti i consiglieri regionali e ad alcune autorità della provincia di Chieti una comunicazione con cui dice ci siamo messi a pari, adesso sintetizzo, ci siamo messi a pari con tutta la mole di tamponi che dovevamo fare, adesso abbiamo la situazione sotto controllo. Siccome a me non risultava così, ho risposto a questa comunicazione con un accesso agli atti chiedendo esattamente tutti i dati dei tamponi, cioè tutti i pazienti dell'ASL di Chieti che sono risultati positivi al Covid, di tutti i pazienti volevo sapere quando hanno richiesto il tampone, quando è stato effettuato il tampone, quando è arrivato al laboratorio, quando il laboratorio ha dato il referto all'ASL e quando l'ASL lo ha comunicato al paziente. Di fatto ieri mi è arrivata la risposta dal direttore generale dell'ASL 28 giorni dopo la mia richiesta di accesso agli atti che mi dice che di fatto non è ancora in grado di darmi queste risposte. La mancanza di dati sui tempi delle analisi riguarda tutte e quattro le ASL abruzzesi, Shell ha risposto che i numeri non saranno disponibili prima del 30 giugno. Altra questione però è che attualmente in Abruzzo sono processati ancora circa 1000 tamponi al giorno e questo benché il famoso macchinario a disposizione della ASL di Pescara ne avrebbe dovuto analizzare 2400 e i laboratori aquilani d'Antelabs, in dialogo con la regione, ne avevano assicurati in minimo 5000. Il perché non si facciano più tamponi, il perché non si inizi un'indagine sierologica francamente non me lo spiego perché ad oggi, visto che siamo anche usciti dall'emergenza e che ci viene detto che i laboratori non sono in sovraccarico di lavoro perché non si facciano più tamponi resta un mistero.